buon pomeriggio a tutti vediamo se riesco a bloccare il telefono in qualche modo ce la faremo eccolo patrick aspetta che sto cercando di bloccare il telefono prima faccio un casino qua arrivo dunque vediamo se ci riesco ragazzi oggi a milano fa caldissimo fa veramente caldo vediamo se riesco a fare qualcosa sto facendo un casino questo telefono aspetta aspettate mi si è rotto il supporto vabbè stendiamo un bello pietoso su tutto questo dai forse tiene allora buona domenica intanto vado a cercarmi let me introduce you mister 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 patrick pugliese eccola ciao giusi ci vediamo senza mascherina adesso finalmente visto che i nostri incontri ultimamente sono stati casuali e mascherati e neanche fossimo esatto e poi davanti a tutti quindi con questa cosa tenebrosa del della distanza sociale non ti posso abbracciare non possiamo farci un selfie da vicino via discorrendo ciao giusi arriverà 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 poi se sei qua a milano ti vedo di persona ti do i ritratti che ti abbiamo fatto ma ragazzi tua madre ma io non so adesso quanti quanti di voi conoscono la mamma di patrick c'è parte talento straordinario poi mi ha fatto due ritratti da brivido uno ma lei poi ti seguiva anche a ballando quindi si è appassionata molto credo che te l'ho anche presentata al supermercato qualche altra volta quindi è una tua fan mia mamma per cui il ritratto l'originale ce l'ho io quando ci vediamo te lo do insomma ti vedo in formissima sei bellissima giusi onorata di questa diretta grazie perché perché tu sei un gentleman diciamolo tu che sembri così cacciarone così è così cacciarone no non è vero quello no cacciarone in realtà sei sempre molto attento e gentile devo dire che noi oltre a essere oltre a essere amici anche se non ci sentiamo tutti i giorni abbiamo questo bel legame e poi siamo vicini di casa non stiamo a dire ma io oggi ti ho intercettato con un gelato in giro con la bici esatto esatto perché hanno riaperto la gelateria e ho detto vado in gelateria al mattino per prendermi un caffè invece il caffè non lo vendevano hanno detto noi vendiamo possiamo vendere solo gelato così mi dia una pallina di crema anzi nutella bianca quindi una cosa pesantissima ma ma pazione pedalato proprio poco dopo mamma mia ma pazione ragazzi una pallina di nutella bianca sì e sapeva non ho azzardato di nutella calda quella classica per cui era densissimo dolcissimo e pesantissimo comunque no no niente gentleman quello che che devo dire devo dire stai benissimo giusi mi fa proprio piacere vederti insomma anche se almeno ci ascoltano un po per cui ma noi recuperi ma noi abbiamo modo poi di recuperare tra l'altro senti ma invece patrick allora intanto io sono una fan delle tue bici ho visto questo progetto nascere evolversi ne ho parlato sempre quindi già hai fase embrionale ma è la mia passione in realtà quindi sì l'ho rifatto proprio quando ne parlavamo ti ricordi che ti ho presentato qualche altro campione tra l'altro te ne avevo parlato proprio perché tu hai veramente sei veramente straordinario perché riesci a essere forte in tutti gli ambiti che intraprendi quindi hai un talento guarda sei un genio proprio sei geniale perché no a parte il fatto che ti seguo nella carriera politica per cui sei un onorevole insomma però infatti sono invecchiata dire è verità ti sto dicendo di no ti sto dicendo di no però sotto l'ambito sportivo ne avevamo parlato proprio perché il tuo essere campionessa insomma nei cento metri piani giusto se non sbaglio sono i cento metri e due e quattro i cento e due e quattro c'è mica oh guarda c'ho anche la mia mascotte qui patrick che mi fa vedere ah eccola lì che beh sì proprio vedo l'orsacchiotto che ti porta fortuna ti pare pensa che l'altra volta tecnologica insomma ma pensa che l'altra volta ho fatto una diretta con paolo ruffini che ha una sensibilità particolare devo dire mi piace da morire a me quell'uomo ma combinazione tra l'altro in quella fa in quel momento in cui abbiamo fatto la diretta non c'eravamo messi d'accordo aveva attorno a sé dei pupazzi allora io ho fatto vedere il mio a un certo punto ha preso una forbice voleva tagliare la gambina al pupazzo detto no non lo puoi amputare in maniera così brutale davanti a tutti poi no però un messaggio meraviglioso vostro il fatto di essere una campionessa così straordinaria non serve essere tra virgolette ripetitivi sul fatto veramente che tu hai una forza d'animo una positività da vendere e sei veramente un modello per tutti noi per tutte le persone insomma che si abbattono per poche cose tu sei riuscita a superare e rendere positivo un momento di difficoltà tremendo e proprio perché sei un esempio così già allora ti volevo come testimonial sportivo per quello che è stato il mio percorso di bici che è arrivato l'altra volta ti ripeto ho fatto gare di coppa del mondo una squadra importante ho visto mi viene quasi ti devo dare del voi manco più di lei ti devo dare del voi neanche più di lei per l'altro guarda devo dire che io c'è veramente mi sono così affezionata a te no che quando ho raccontato ai miei amici che avremmo fatto un po questa diretta oggi mi fanno ma patrick chi quello del grande fratello no patrick non è quello del grande fratello patrick è molto di più no perché avendolo fatto tre volte in tutta la vita lo faccio ogni tanto ormai è diventato anche il grande fratello io ho deciso in qualche modo di fare siccome il grande fratello quando partecipi diventa in qualche modo un un qualche cosa che ti marchia ed è diventato per un periodo lungo un marchio negativo a quello del grande fratello eccetera ovviamente una trasmissione discutibile eccetera anche se è il padre di tutti i reality eccetera ma avendolo fatto tre volte ho deciso di dire che il grande fratello fa parte delle mie imprese l'ho fatto tre volte e in italia se non forse al mondo sono il concorrente che ha trascorso più giorni all'interno da pazzi comunque se ci pensi esatto qualcuno scrive ad onore perché sono più di 250 giorni nella casa a filo esatto proprio ad onore quindi dai prendiamo ormai sto grande fratello prendiamolo come una cosa positiva alla fine allora senti non potendo levare di dosso io dovrò fare un peluche col confessionale dietro che è ancora più grave secondo me secondo me nella tua magnifica casa un confessionale ce l'hai un angolino stile confessionale con paretina rossa dai dai intanto vedo intanto vedo che sei scusa vedo che sei in linea con il mood del momento adesso vanno di moda queste questi collegamenti con le super mega librerie dietro vedo che ti sei attrezzato anche tu con la libreria dietro io faccio il collegamento quasi sempre da qui perché ho la luce della finestra che mi illumina e poi lo sapevi perché sei già stata ma pensa alla coincidenza la mia collezione di vasi a caso è a caso di tua parentela guarda a caso c'hai la collezione completa io ce l'ho spezzata te ce l'hai completa veramente dovrebbero darti il premio fedeltà guarda c'è proprio sì sì il premio fedeltà guarda c'è proprio tutto insomma ed è una coincidenza insomma questo adesso guardo bene poi guardo bene con attenzione qualche pezzo che ti manca così mi organizzo per natale o pasqua so che regalarti ormai adesso è natale non mi sapere qualche modo dove andare a prendere ci vado insomma senti tra l'altro sì no volevo chiederti no perché poi noi ci siamo incontrati abbiamo parlato ma insomma eri appena uscito dalla casa ma volevo capire un po' cioè è stato come se ti avessero preso un po' a padellate che sensazione hai avuto perché questa ondata no del coronavirus con le abitudini completamente stravolte per tutti ognuno l'ha vissuta poi in modo diverso io ti ho visto come sembravi quello che era appena tornato dalla luna e non sapeva ancora bene camminare perché aveva perso come dire la sua la sua dimensione attraverso la mancanza di gravità adesso com'è mi sentivo proprio così sì 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 mi sentivo così perché no adesso vado in giro in bici senza mascherina nel senso che si può non usare la bici mentre pedali altrimenti soffochi poi se mi avvicino delle persone metto la mascherina chiaramente leggevo prima sul Corriere che praticamente in Qatar ci sono tre anni di reclusione se passeggi per strada senza mascherina ho letto delle news che sono incredibili quindi in qualche modo sto capendo quello che è la nuova diplomazia oltre al fattore proprio di evitare i contagi eccetera quando ci siamo visti era la mia prima spesa al supermercato per cui avevo idea di come fosse ma viverla vivere questa coda da atmosfera post atomica diciamo diciamo con l'aria contaminata tutti distanti i guantini ti misurano la febbre la coda esce uno dal supermercato e la coda si muove di uno tutti nel supermercato fanno la spesa comodamente perché il supermercato è vuoto quindi è contrario vedi che c'è sempre il lato positivo c'è sempre lo vedi infatti poi una volta dentro si fa con comodo perché non c'è res sostanzialmente dentro però la coda è lunga quindi se la coda invece di essere alle casse è prima di entrare sostanzialmente tranne pochi giorni in cui poi ho beccato il supermercato vuoto diciamo che ci avevano preparato ma vederlo dal vivo è stato comunque toccante ma ripeto voi l'avete vissuto giorno per giorno e quindi dobbiamo stare al passo immediatamente non abbiamo nessun motivo di pensare per dire noi concorrenti del grande fratello i concorrenti di amici che sono stati reclusi di pensare che che dobbiamo accusare questa cosa in modo particolare mi sono cercato di adattare subito tra l'altro adesso che che sembra stiano migliorando non in non in Lombardia purtroppo le cose insomma speriamo di vederlo di vedere la luce di uscirne pian piano ci vorrà ancora molto tempo che ne pensi quanto tempo per tornare a una normalità cosa si dice in quel del Parlamento? ma guarda lì ti vedo battagliare altro che casa del grande fratello sei lì a combattere in prima linea proprio in quello che è il centro dell'Italia insomma ma lì si dice tutto il contrario di tutto perché poi alla fine è tutto prioritario in questo momento se parli con eh certamente adesso c'è da gestire questa ondata di crisi economica che è quella che fa preoccupare ancora di più eh in questa particolare fase no? e quindi chiaramente c'è tutto il settore del turismo il settore dello sport che genera altrettanto turismo no? i grandi eventi tu ne sai qualcosa anche col ciclismo io seguo insomma i grandi eventi legati alle maratone hanno annullato tutto chiaramente oggi ho dato un'occhiata in televisione ho visto stupito mi è piaciuta come cosa ho visto il MotoGP e la Formula 1 con i piloti con Valentino Rossi con Charlie Clark che correvano con i videogiochi cioè c'è una una Formula 1 virtuale questo non non sapevo ci fosse straordinaria con l'antena adesso adesso è veramente un mix cioè se io lo dovessi immaginare sembra un po' veramente un film la cui sceneggiatura è un gran mix tra la commedia l'horror e la fantascienza e voglio avere un atteggiamento propositivo e consapevole che non sarà facile e che sarà lunga però bisogna comunque sforzarsi intanto per collaborare intanto per resistere quanto più possibile come nelle gare dobbiamo resistere perché tutto è ciclico e tutto ha un inizio e una fine il problema è che non sappiamo bene quando tutto questo finirà e dobbiamo stare molto attenti o comunque la politica in questo momento ha una responsabilità grande perché comunque sono stati messi a disposizione tanti soldi però ci sono tante realtà che vanno assolutamente sostenute e tenute in piedi perché non si fermi l'economia altrimenti rischiamo veramente il collasso totale di quello che nessuno vuole e non ti nascondo che sono preoccupata perché proprio in settimana parlavo con dei miei amici che hanno dei ristoranti con tutti i balneari che sono in difficoltà sui lidi sugli albergatori che qualcuno addirittura mi dice non apro perché non ho conferme non ho prenotazioni però posso dirti che un grande messaggio sociale che secondo me andrebbe assolutamente analizzato dalla politica è il fatto che nei grandi eventi quelli che io seguo un po' per passione un po' per la mia onlus che sono le maratone le stramaratone le maratone le mezze maratone mi era in mente la stramilano o la scarpa d'oro di Vigevano o la Venice Marathon ma anche la stessa maratona di Roma e di Milano maratona di Roma ci sono sono arrivate tantissime nei mesi passati iscrizioni ma la cosa che dovrebbe far riflettere è che non ci sono state disdette nessuno ha chiesto indietro la quota di iscrizione la quota di iscrizione perché comunque stanno lì a sperare che una data ci sia è molto indicativo la situazione di reclusione devo dire che anche oggi ho fatto due commissioni in macchina ho visto che c'è tanta gente in giro in bicicletta per esempio quindi questa reclusione forzata porta le persone a aver voglia di vivere quindi con buon senso credo che ancora di più si saprà rivivere la voglia di andare in vacanza di uscire di andare al ristorante di uscire con amici di tornare nei punti di aggregazione insomma con maggiore serenità io penso che sarà tutto graduale io faccio battaglie chiaramente sono interessata un po' a tutti i settori però non si può studiare tutto non si può approfondire tutto quindi siamo una squadra di esperti e io mi concentro ho apprezzato moltissimo le ultime tue parole riguardo alle mascherine per poter leggere il labiale insomma questo è molto importante conosco da vicino questo tipo di realtà e credo che siano molto utili almeno per per chi chi convive ha bisogno di per mille ragioni ha delle persone che hanno questo tipo di di necessità cioè di leggerti il labiale io per primo comprerei una o mi importante anche come step culturale intanto che che siano rese disponibili in modo tale che se uno ne ha bisogno le può prendere perché al momento al momento ci sono comunque due regioni che so che si sono già messe in moto che sono la toscana e il veneto però le fanno le hanno prodotte messe a disposizione su richiesta di alcune associazioni io ho semplicemente portato il tema in parlamento chiedendo al commissario orcuri visto che preso dalle beghe per recuperare le mascherine cosiddette standard già che ci sei io ho detto recupera anche quelle con la banda trasparente che possono essere utili a molte in moltissime in moltissime case richieste magari in maniera specifica sono utilissime quelle è vero c'è tanto da fare non ti nascondo che mi divertivo di più prima però io lo sai e tu mi conosci io prendo con serietà e impegno ogni volta che do la mia parola o che metto la faccia e quindi sto cercando di farlo al meglio però è dura è dura io sono con te quindi questa e altre battaglie insomma le porti avanti veramente con con grande fatica perché oggi sei qui domani cioè prima che ci fosse il covid prima che io entrassi il grande fratello vediamo comunque che viaggi continuamente una cosa da un evento all'altro da un'associazione all'altra sempre all'aiuto comunque dei più deboli tu sei un'eroina sei veramente e sei un modello da seguire proprio per tenacia perché io ripeto la cosa io quando sono depressa ti chiamo più spesso patrick io io tendo devo farti sorridere però tu sei proprio l'esempio del fatto che non ci si debba mai abbattere davanti a nulla tu in qualche modo sei fortissima non ti abbatti mai io io dico io dico sempre che difficile non vuol dire impossibile vuol dire solo difficile e che tante volte il cervello proprio nei momenti di crisi e di difficoltà elabora le soluzioni più inaspettate però ci dobbiamo credere ci dobbiamo impegnare non possiamo come dire gettare la spugna subito solo perché ci rendiamo conto che c'è un ostacolo e devo dire che anche tu però non ti sei fermato tra l'altro scusami allora c'è ogni ogni tanto butto un occhio ai messaggi non riesco a leggerli tutti però qualcuno dice oggi patrick è scostumato è maleducato non ci saluta saluta tutti se no poi dicono che colpa mia intanto saluto debora banelli miss week patrick cristiana 77 patrick al potere di mettere a proprio agio le donne questo non lo so cosa vuol dire miss week scrive giusi sono una bimba di patrick vedi anche non non solo presidente scusami quante bimbe già hai la pochette anche tu hai la pochette anche tu adesso devo vedere devo vedere un po quindi salutami il premier digli anche patrick ha le bimbe di patrick e poi non so se hai la pagina i bimbi di giusi penso di sì insomma no però ci sono la volta c'erano no devi sapere che una volta dopo dopo ballando con le stelle e la passione che è nata per la danza si erano si erano create le versacine le versacine che insomma ancora qualcuna mi segue qualcuna si è un po persa per strada insomma però mi mandano sempre tanti messaggi di affetto e poi io continuo a ballare con todaro non so se lo sai e ho visto ogni tanto qualche foto nelle riviste insomma anche mia mamma guarda detto che todaro è straordinario avevate una coppia fantastica ma sai se vogliamo raccontare come è stato partecipare invece a quelle chiamiamolo è un reality in qualche modo diciamo ballando un tale perché so che mi fanno ballare tutti i giorni per otto ore poi chiaramente non dormite lì potete rientrare a casa ma quanto fa di cosa è stato specialmente insomma anche con la difficoltà delle protesi come come è stato arrivare bravo ma sai che bravo che non me lo chiede nessuno e me ne tutti danno per scontato che tanto è facile io sono portata e quindi rendo tutto facile non è stato proprio una cosa molto banale chiaramente tutti dicono che sono un simpaticono buffore eccetera e che il grande fratello è una passeggiata ma in realtà nessuno capisce che comunque è faticoso anche solo star seduti lì dentro che basta una parola di troppo non lo so comunque anche perché hai le telecamere addosso 24 ore su 24 io io te l'ho anche confessato a me l'hanno chiesto tre volte ho detto no tre volte no infatti molto non lo sapevo infatti molto ingenuamente volevo metterti sotto contratto me l'hanno scritto chiusi a settembre facciamo una scrittura privata guarda io io allora guarda io dico nella vita mai dire mai ma se fosse guarda lo farei solo per solo con te per te perché so di certo che mi divertirei ecco dato che voglio rifarlo non lo so sei nato si no scherzo non lo rifarei però qualora tu decidessi di rifarlo mi ricandido così entro poi ti accompagno magari per una o due settimane poi esco perché al momento uh grande patrick aspetta che ho beccato uno che mi ha fatto sorridere che aspetta eh bortoluzzi ciao che roba strana ragazzi giusi l'ho votata nella mia circoscrizione a varese grazie e patrick l'ho votato a manetta al gf ah grazie raga vedi che in qualche modo abbiamo preso i voti tutti e due a parte che comunque anche ballando grazie devo dire che ma come è andata lì allora mai spiegami quanto faticoso è ballare comunque con le protesi insomma allora è difficile bravo perché comunque ricordiamo che insomma io ho due gambe finte che non è che si avvitano e poi fanno tutto da sole sono comunque due arti artificiali che a volte fanno male che sono fatte su misura che delle volte provocano anche delle ferite a seconda di come appoggi il piede di quanto carico gli dai e ballare è faticoso io sono stata in parte agevolata per il fatto che sono un atleta ero allenata quindi i ritmi pesanti di allenamento non mi hanno pesato tanto che se ci se ci fai caso in finale in quell'edizione siamo arrivati tutti atleti e c'era Valerio Spromonte schermitore che è arrivato terzo Andrew Au grande atleta di salto in lungo che insomma ha disputato la finale con me vabbè c'era Giorgia Surina che non è un atleta ma è una grande sportiva insomma arrivare fino alla fine vuol dire che devi essere molto molto allenato certo con due gambe finte devo dirti la verità che io già dopo la prima puntata mi sembrava di aver fatto qualcosa di straordinario di esagerato perché sono riuscita a ballare senza cadere senza sbagliare e sui tacchi che già e penso che le persone ma anch'io devo dire lo devi fare perché devi ballare devi stare in piedi però dobbiamo ballare io e te primo poi volentieri tra l'altro io ballo molto peggio di te cioè io non so ballare per me è un problema gravissimo non esiste qualche forma di ballo dove l'uomo sta fermo e balla la donna intorno nella fantasia sì stavo per dire una cosa tremenda non so se si può dire potremmo fare la pole dance io faccio il palo no ti prometto che mi impegno scegli tu il tipo di ballo che sia salsa tango dai tra l'altro la salsa tra l'altro la salsa è una delle mie preferite ed è stata anche me lo ricordo ancora tra l'altro sai perché perché fu il ballo in cui mi volò la gamba in diretta televisiva sì ricordo quelle foto e ti rendono ancora più reale più tenera più vera e soprattutto la nonchalance con la quale tu riesci ad affrontare da quei momenti dove diciamolo alle olimpiadi o a ballando che siano i 100 metri dove con le protesi particolari oppure a ballando con i tacchi tu sei esposta al massimo dello sforzo insomma atletico perché poi è uno sforzo sportivo fino a quando ci incrociamo per fare la spesa che cammini serenamente cioè come tu riesci a vivere a dare questo modello inganno bene non è che inganno che sei straordinaria guarda io ho un'ammirazione per te infinita perché riuscire cioè tu hai le gambe molto più di tante altre persone insomma maschi e femmine che si abbattano guarda anche se te ne parte una durante la diretta quello è giusto per far vedere chi sei insomma che riesci a ballare veramente diciamo che ho un vantaggio no? che se c'è qualcuno che mi sta un po' sul gruppone posso anche fingere che sia volata accidentalmente no? ah hai fatto così? non lo sapevo no non è vero con chi balla? ma chi è? Todaro? in quel momento no 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 sì 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 allora io ho ballato e ho vinto con Todaro a teatro ho portato il mio spettacolo continuando a ballare con lui quindi assolutamente sì non potrei ballare con cioè ho provato a ballare anche con altri però devo dire che lui noi abbiamo questa grande affinità diciamo affinità si vede che ballate benissimo insieme no ma poi ci vogliamo bene ci conosciamo talmente bene perché lui è riuscito a entrare talmente tanto nel mio mondo che anche soltanto tenendomi dal mignolo lui è in grado di capire se io sto in equilibrio se sto per cadere se ho il peso a destra se ho il peso a sinistra e quando balli con una persona è fondamentale soprattutto a teatro dove il palco è in pendenza certo e per me la pendenza è un ostacolo hai mai avuto difficoltà in teatro? comunque ti sei mai trovata proprio è capitato è capitato è capitato che stavo per cadere ho perso l'equilibrio ma non sono caduta con grande abilità io sono riuscita a fare una giravolta sull'altro piede e lui è riuscito a prendermi al volo con la mano e quindi insomma siamo riusciti anche a camuffare quel momento proprio perché abbiamo questa grande guarda riesci a far sembrare delle cose di grandissima difficoltà come affrontare il vero ballo il vero e proprio non è una categoria di vero è proprio il ballo vero come se fosse facile che è veramente difficilissimo anzi vorrei se capita l'occasione prenderò qualche lezione di ballo da te ah va bene io non insegno e cerco di sostenerti no però vorrei accompagnarti però possiamo provare non lo so dimmi tu appena sarà permesso ricongiungerci anche se amici facciamo così tra congiunti facciamo un piccolo waltzer qualcosa insomma improvvisiamo il nostro salone di casa mia o di casa tua e ci proviamo facciamo anche una diretta così facciamo anche ridere tanto adesso con queste dirette ci abbiamo preso un po' tutti quanti gusto perché è anche un modo di come dire sentirsi più uniti anche a distanza tra l'altro devo dire che è una bella cosa devo dirti che voglio salutare non so se tu li conosci gli amici del Giro d'Italia Nenbike certo che li conosci io sono stata madrina loro fanno questo Giro d'Italia Nenbike adesso questo poi c'è Alex Zanardi che è un grandissimo campione tra l'altro anche lui devo dire che da atleta dell'automobilismo è diventato un mito dell'endbike se non sbaglio quando uno comunque essere atleti nella testa fa la differenza ragazzi aiuta tantissimo io guarda l'ho vissuto anche un po' sai questo periodo di quarantena di isolamento che abbiamo dovuto comunque tutti quanti vivere Gianluca Digitale grazie scusami è di parte il mio amico Gianluca figurati saluto tutti gli amici dell'endbike tra l'altro Bruno Pedretti che è uno sponsor del circuito sportivo proprio dell'endbike di Bergamo della PMP che ha fornito molte bici anche agli atleti io spero guarda io spero io ti dico la verità spero che ripartano che ripartano presto con tutte le dovute chiaramente misure di sicurezza ma che ripartano presto questi grandi eventi che regalano comunque anche molta possibilità positività energia adrenalina e soprattutto tu ne sei testimone anche con la tua azienda e con El Rey questa meravigliosa linea di bici no ma perché fammi dire ai più come dire ai più distratti che dicono eh però lo sport adesso non è tra le priorità ma ragazzi io ricordai che lo sport ha un indotto anche economico importante da da mangiare a un sacco di gente a un sacco di famiglie perché non c'è solo l'atleta o l'organizzatore dell'evento dietro c'è tutto un mondo di gente che lavora che vive di quello per cui è anche quella una macchina che non si deve assolutamente fermare non si può affermare come non si possono fermare tutte le attività produttive come non si sono fermate le industrie che hanno comunque continuato a lavorare seguendo le misure di sicurezza in questi in queste settimane così cruciali ma te scusa come si è messo con la tua aziendina e con i progetti legati alle gare di bici guarda praticamente per concludere il discorso dell'handbike mi stai facendo venire un'idea visto comunque gli amici che collaborano perché producono vogliamo fare un handbike marchiato al rei ma sì facciamola per veramente per aiutare qualcuno insomma volentierissimo non sto registrando che qualcuno registri no no ma facciamola anzi quando ci vediamo vedremo quando ripartono le gare e presentiamo una bella l'array handbike e mettiamo in piedi questo progetto di beneficenza che mi sembra veramente fantastico in funzione proprio dello sport delle gare per quanto riguarda la mia squadra corsa eccetera che si chiama l'array ballerbike che ho con Stefano Burgassi ti dico nostro atleta campione in carica decimo italiano elite uomini quindi siamo comunque molto messi bene se pensi quanti sono ed è un quarantesimo al mondo in coppa del mondo quindi va fortissimo è andato fortissimo l'anno scorso abbiamo fatto veramente un'ottima stagione ora che è tutto fermo stiamo riprogettando anche se ci sarà qualche gara magari quest'estate o già settembre più settembre mi sa che il giro d'Italia ha fatto già il giro d'Italia su strada la mountain bike è ferma hanno annullato tutte le gare di coppa del mondo penso anche il mondiale che si teneva ad albstad in germania c'è stata la prova ad albstad di coppa del mondo l'hanno annullata quindi credo che si parli del 2021 per la mountain bike che è il mio settore perché poi diciamo sono specializzato in quello però parte land bike che mi interessa già da qualche anno perché appunto collaboro con delle aziende che forniscono parti a land bike ripartirà nel 2021 la mia squadra le mie cose stiamo sviluppando le nuove biciclette un po' di tecnologie soprattutto come ti dicevo vedo specialmente oggi andando in giro visto che c'è tanta voglia di uscire tanta gente fuori fa caldo a Milano fa un caldo pazzesco oggi tanto ha diluviato due giorni fa quanto caldo ho fatto oggi ma tra l'altro scusami bellissimo il fatto che anche tu non stai fermo un attimo perché anche con Patrick noi corriamo ti ricordi hai visto quanti giorni dovete guardate che cercare il pulsante per spegnere Patrick non è facile parlo troppo sono una macchinetta no 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 perché anche in termini di idee di progetti non stai mai fermo anche quando le cose non vanno come tu vorresti che andassero riesci sempre a trovare la chiave di lettura positiva ed è uno dei motivi per cui io e te siamo amici guarda non voglio essere retorico ma abbiamo una cosa in comune probabilmente da lassù qualcuno ci sta vicino noi cerchiamo di rendere grazie per cui io la vedo così perché esiste una divina providenza se vogliamo esiste qualcuno che ci segue mi sento già molto fortunato per questo è vero è vero poi tra l'altro mia madre banalmente scusa mia madre banalmente dice Dio li fa e poi li accoppia sono tanti anni che siamo amici infatti vorrei raccontare a chi ci segue che forse parliamo di 12 anni fa 2008 2009 a Reggio Calabria ci siamo incontrati era un evento pensa l'avevo rimosto sì era un concorso forse di bellezza un evento comunque estivo della città eravamo insieme in giuria insieme esatto quindi e abbiamo scoperto e abbiamo scoperto dopo di essere anche vicini di casa l'assurdità è che chi l'agenzia che ci vendette la casa cara Luisa sostanzialmente è la stessa persona cioè da Reggio Calabria la persona che ci ha dato casa è la signora Luisa a Milano quindi a Milano pensa è vero su 50 milioni di italiani quante volte potevamo finire in giuria insieme ed essere vicini di casa insieme a Milano da Reggio Calabria l'altra partita adesso dobbiamo poi li accoppia insomma esatto adesso dobbiamo solo insomma certamente lo sport è una grande risorsa e non finirà anche il mondo dell'arte che è stato spesso un po' messo da parte dello spettacolo degli artisti dei libri professionisti devo dire l'Italia è tanto e tanto e tanto di più noi siamo comunque abbiamo un'infinità un pozzo di creatività di competenza dobbiamo solo cercare di preservarlo e di non farlo morire e non abbandonarlo però ci dobbiamo anche ci dobbiamo anche convincere secondo me dobbiamo allora chiaramente leggiamo tutto ciò che ho beh io ti parlo dall'aver cercato questo mese di aggiornarmi sulla situazione che è chiaramente molto seria serissima per cui da un lato non bisogna essere furbetti abbiamo letto di attività aperte comunque abusivamente multate eccetera adesso che da domani si torna alle prime aperture eccetera sicuramente rispettando le regole però bisogna vivere con una certa elasticità la vita che riprende senza puntare il dito o accusare cioè cerchiamo di fare squadra come si dice nello sport di fare squadra di essere tutti quanti responsabili e collaborativi errori magari non non chiamare subito la vigilanza per dire insomma cercare di agevolare questa vita che riprende parlo proprio delle attività dai ristoranti eccetera infatti poi l'Italia che come dicevamo è un popolo di navigatori di poeti di pensatori insomma siamo un popolo sicuramente creativo e che ha un patrimonio importante dal mare alle opere d'arte ha la voglia di vivere alla cucina l'opera l'opera che è cantata in italiano in tutto il mondo esatto ma tra l'altro uno degli ospiti fissi che ho qui in trasmissione è un cantante d'opera della Scala rinomatissimo in tutto il mondo te lo devo presentare è un pazzo furioso come noi simpaticissimo si chiama Simone Piezzola di Verona e via Verona adesso quindi te lo presenterò perché appunto poi andiamo anche a vederlo cantare insomma dai magari molto bene e in qualche modo vediamo come riprende la vita cerchiamo di di aiutarci tutti quanti di non arrivare al dito puntato non alla mascherina non ai guanti cioè cerchiamo di non basta polemiche ma di essere in questo momento è vero ho visto la gente tornare a sorridere parliamo di una cosa proprio parlavi di arte effettivamente quello che non ha mai chiuso sono le farmacie cioè i beni di prima necessità invece ristoranti posti di vacanza cioè ma io ogni tanto punto la webcam su Venezia e non vedo turisti attraversare il ponte di Rialto Venezia io non l'ho mai vista senza turisti ci sono andato migliaia di volte e c'è sempre proprio c'è sempre una marea di gente che intasa le calli ma tu lo sai che io lo sai che io a Venezia hai fatto la gara la maratona l'hai fatta quella sua tra i conti no ho fatto l'ho fatto la family run quella che fanno il giorno prima di 5 km sono stata anche madrina con Alex per le quali io morirei già 5 km da Venezia sono morto vabbè ma figure io sono poi una velocista quindi per me anche 5 km sono tanti sì sì è chiaro che hai una velocità esclusiva ho fatto no ma poi ho fatto la madrina della Venice Marathon e la Venice Marathon è una di quelle maratone che continua tra l'altro ha fatto proprio nel periodo di Pasqua aveva lanciato dei pacchetti offerte dei prezzi particolari con data da definirsi per la Venice Marathon ed è una di quelle maratone ancora tanto attese che non ha avuto disdette o richieste di rimborsi di quote ed è un messaggio sociale veramente importante no però Venezia io ce l'ho nel cuore me la ricordo bene per tutta una serie di cose che io faccio a Venezia ma io ho interpretato anche l'Aquila il carnevale di Venezia sai il volo del campanile in piazza San Marco esatto l'ho fatto io non lo farei mai con me si spezza la corda la fune si rompe mamma mia è stata una delle esperienze più belle praticamente bungee jumping in un certo senso giusto? ma no no però guarda è stato ancora più emozionante però l'altezza soffri di vertigini comunque com'è stato? fino a quel momento no adesso si adesso devi salire al secondo piano dici no vado per le scale allora devi sapere che non c'è un volo di prova non si può provare no anche perché se no poi non lo fai più no no perché io ho chiesto scusi però non è possiamo fare magari una prova perché sei matta la prova allora intanto mi hanno spiegato guarda secondo me è buona la prima perché dovesse andare male no è stata buona la prima devo dire però non mi avevano detto che io praticamente parti dal campanile di piazza San Marco e arrivi giù con queste imbragature la discesa è molto anche lenta quindi ti godi il paesaggio è un colpo al cuore vedere centomila persone lì sotto che urlano il tuo nome appena apri le braccia loro esaltano applaudono ma la cosa bella te la devo dire è che quando arrivai lassù il tipo che si occupava di me mi diede subito una boccetta di vodka e mi dice bevi dico no ma io non bevo no vabbè se per caso ti viene il panico bevi ti disinibisce un attimo insomma e io no ma io non voglio bere poi ho scoperto che in passato qualcuno non si fa il nome perché noi siamo come dire eleganti non si fanno i nomi però qualcuno prima di lanciarsi o comunque di staccare il piede dalla pedana e farsi andare giù cambiò idea non si voleva più buttare quindi fine dello spettacolo e quindi loro per timore che io cambiassi idea allora ho detto guardate 170.000 persone che fanno buuuu e mia madre no e mia madre a cui io non avevo raccontato bene no le altezze le cose mi disse vabbè sei legata bene sì mamma tutto a posto ho l'imbragatura tutto regolare poi mi fa ma le gambe le gambe le hai serrate bene perché se te ne vola una dall'assuso cazzi è perché prima o poi uno lo becchi giù e quindi no ma soprattutto devi assicurare ma soprattutto Patrick chi la recupera la gamba poi va a capire dove è finita cioè è come a terra non si dice ma vanno legate bene insomma è andata bene è andata bene è stata una delle esperienze più belle della mia vita guarda è stato bellissimo anche perché poi mi hanno anche spiegato il ruolo dell'aquila no perché lo chiamano il ruolo dell'aquila va avanti da decine di anni dal secolo scorso ma devi sapere che quello è il volo della colombina la colombina normalmente è una veneziana una cittadina di Venezia che viene scelta tramite un concorso e invece l'aquila è il medesimo volo identico però mentre la colombina apre il carnevale l'aquila lo chiude e l'aquila che è invece un volo che hanno istituito una decina di anni fa ogni anno è interpretata da un personaggio che ha fatto qualcosa di forte nella vita che ha dimostrato coraggio forza determinazione perché l'aquila tu non potevi redimerti dal fare il volo dell'aquila perché l'aquila è anche quell'animale l'unico che riesce a vedere al buio che può vedere che vede anche inoltre il buio vede la luce è quello che vola più in alto di tutti esatto l'aquila è il massimo cioè nella catena proprio degli animali io ho sentito ma ho sentito la responsabilità esatto ma io ho sentito veramente la responsabilità anche di quel ruolo che dovevo interpretare in quel momento ma voglio sapere una cosa mai bevuto o no per fare il salto no e ho conservato però la boccetta la boccetta e ce l'hai ancora pietta ce l'ho ancora ah perché era una bottigliettina era piccolina sì quelle come i fammi fantozzi alcolisti anonimi che tira fuori la bottiglietta a Chicago all'epoca del proiezionismo esatto guarda che onore è entrato mio fratello Domi Vers io saluto la mamma della mia fidanzata che è collegata quindi ciao Giovanna forse mia mamma sempre le mamme ecco qua e saluto anche tuo fratello insomma ciao ma guarda ma come faremo diciamolo chiaramente come faremo noi senza dei pilastri così importanti adesso voi non vi montate la testa perché state però effettivamente no mio fratello i genitori le persone care sono fondamentali poi ci aiutano veramente nei momenti più difficili che possono essere guarda se penso a Giovanna per esempio che è collegata qui non quest'anno quindi non si parla di questa epidemia pandemia ma un anno e mezzo fa due anni fa ho avuto l'influenza l'ha avuta anche mio figlio e mi ha aiutato proprio Giovanna io ho tipo 39 di febbre lui ha avuto una cosa che si chiama bocca mani piedi che hanno i bambini piccoli tipo la varicella quelle cose lì tra l'altro fastidiosa anche per lui poverino grazie Giovanna per averci accudito veramente grazie ai mammi ai papà a chi ci vuole tra l'altro ricordami quanti anni ha tuo figlio sei anni Leone te lo devo far rivedere perché lo conoscevi ti ricordi quando era piccoletto piccoletto io non lo vedo da almeno almeno tre anni non lo vedo ascolta sei sempre indaffarata nei tuoi faccendi statali ormai tu sei ai vertici sei straoberata di lavoro normale grazie per la diretta di oggi e bisogna che ci vediamo in questi giorni te l'avevo promesso poi è che io faccio la trottola Roma-Milano-Milano-Roma tutte le settimane ma tra l'altro la fai col treno in questi giorni ma guarda in realtà adesso vediamo perché settimana scorsa mi sono mossa in macchina infatti guido benissimo complimenti io guido benissimo però riconosco che questi viaggi Roma-Milano-Milano-Roma me li faccio con mio fratello The Driver lo chiamo The Driver anche perché nonostante io voglia guidare perché mi piace lui insiste nel voler guidare lui comunque anch'io vado spesso a Roma se hai bisogno ti do un passaggio qualche volta mi ha scritto prepara la valigia perché domani bisogna ripartire domani no ma prossimamente torno giù quindi se hai bisogno di un passaggio io devo andarci domani però una volta ci facciamo il viaggio tra due settimane magari devo andare se hai piacere ti porto io andrò in macchina preferisco andare in macchina esatto e se lo dico che avverto certo certo e allora scusi che tanto così ci facciamo cinque ore anche no di risate chiacchierata viaggiamo e poi ti devo dare ti devo dare la coppia per tuo figlio che meraviglia io ho l'altro tuo libro tra l'altro con la tua dedica stupenda questo non l'avevo visto questo l'ho pensato per i bambini che meraviglia Wander Giussi è un supereroe che cambia gambe a seconda di quello che deve fare sei straordinaria Giussi volentieri e ci vediamo presto così così glielo regalo insomma no anche perché poi i bimbi sono geniali il tuo è particolarmente sveglio tra l'altro è un piccolo terremoto però è bello pensare che i bambini possano crescere approcciandosi alla disabilità con normalità senza timore neanche di utilizzare i termini e quindi è il motivo per cui nasce Wander Giussi beh Giussi diciamoci la verità ricorrendo i momenti più duri della tua vita in realtà si può affrontare tutto veramente anche l'impensabile si riesce a superare quando ce lo troviamo davanti giusto? serve coraggio io ci ho pensato tanto in questi giorni perché comunque mio malgrado in situazioni diverse sono stata costretta a stare ferma anch'io ho dovuto ricominciare da capo a volte a volte i cambiamenti spaventano perché noi umanamente siamo abituati a stare a collocarci in delle io le chiamo delle zone di comfort dove tu conosci già alcune dinamiche conosci già alcune reazioni e quindi tutto ciò che cambia un po' ci spaventa ma non è detto che dal cambiamento non si possa invece cogliere che la novità non possa regalare qualcosa di più importante e di più prezioso tu hai mai avuto paura comunque? ma in questi giorni o nel mio percorso? parlo nel tuo nel tuo percorso anche quando sei riuscita poi a recuperare a fare la riabilitazione eccetera allora guarda sì io ho avuto paura allora a parte vabbè ho avuto paura di morire il giorno dell'incidente perché non ho perso non volevo chiederti proprio il momento dell'incidente tra l'altro sai che nel 2016 l'8 febbraio ho fatto un incidente con mio figlio in macchina in autostrada me lo ricordo me l'hai raccontato guarda per quello ti dico che c'è qualcuno che ci protegge dalla sua perché noi non ci siamo fatti nemmeno un graffio però era comunque un incidente in autostrada contro un camion in un tunnel in Liguria che sai ci sono i viadotti per cui ho avuto quella paura diciamo tremenda fortunatamente non siamo stati mesi io mi riferivo proprio la paura di ricominciare e adesso guardando indietro caspita quello che sei riuscita a fare nel modo proprio di vivere con naturalezza questo problema l'hai fatto a parte diventare un pregio ma volevo sapere se hai avuto paura di non riuscire magari ad affrontare la mancanza delle gambe in sostanza questa cosa che poi nella femminilità ti colpisce ancora di più presumo per cui sì ma io ho fatto taruccare la caviglia e adesso metto un taccotto scusa taccotto ciao devo dire no devo essere sincera ho avuto paura in due momenti particolari io ho dovuto ricominciare da capo non mi vergogno a dire che ho avuto bisogno di mia mamma anche solo per fare la pipì ho dovuto fare i conti con l'armadio con tante cose che non potevo più mettere ho dovuto fare i conti con una quotidianità che non era più quella di prima ho avuto paura di non farcela ma non perché io non volessi tentare io ho avuto paura di non riuscire a gestire il dolore perché il dolore era fortissimo quindi il dolore fisico è una cosa che comunque ti accompagna quanti mesi è durato e continua adesso il dolore fisico no io ho ancora guarda oggi pomeriggio ho dovuto staccare la gamba un'ora perché avevo i dolori degli arti fantasma e l'ho staccata ecco volevo farti una domanda sugli arti fantasma a volte c'è prima di tutto ti chiedo quando cambia il tempo senti dolore è vero cioè è vera anche questa cosa è vero è vero è vero ti chiamo se sta per piovere io sono meglio del meteo quando sta per piovere me lo dice prima ancora la mia gamba e la mia gopa però devo dirti comunque però devo dirti no io ho avuto ho avuto sì paura di non farcela ma oggi quando mi guardo indietro devo dirti che ho fatto talmente tante cose sulle quali io stessa non avrei scommesso probabilmente se avessi scommesso avrei anche perso perché non mi attribuivo tutta questa forza e devo dire che la voglia di vivere il coraggio la determinazione anche quella forza che che non mi attribuivo e che sono riuscita a tirare fuori anche soltanto per il piacere di regalare a chi mi stava accanto un momento di orgoglio è diventata la mia benzina e mi ha aiutato a raggiungere obiettivi che io stessa credevo irraggiungibili inimmaginabili guarda io per questo quindi se ce l'ho fatta io con due gambe finte sono un tuo fan esatto se ce l'ho fatta io ce la possiamo fare tutti dobbiamo soltanto e soprattutto rimanere bellissima partecipare comunque a ballando voglio dire grande fisicità grande bellezza sei riuscita a essere una sta finendo la batteria del telefono sei una donna allora te finisce la batteria e scusa Patrick il tempo è volato mazza pensavo stessimo parlando da un quarto d'ora sono già passati 55 minuti sai che Instagram a 60 minuti ci butta giù allora in realtà dura adesso Instagram dura un po' di più però sì io sono un'ora a giorni più avanti l'unica domanda che volevo intanto grazie perché non volevo farti una domanda troppo intima riguardo proprio il dolore lo stai grazie per aver risposto a me a tutti quanti ma invece ritornando a Venezia che poi abbiamo divagato un attimo il turismo quest'estate dici che riusciremo intanto gli italiani viaggiate in Italia visitiamo l'Italia e poi ho visto che riaprenono le frontiere magari agli stranieri allora questa è una novità che ho letto anch'io oggi esatto anche io l'ho letto oggi appunto non so quanto sia vero non ho potuto verificare la fonte no devo dire che il turismo rappresenta una fetta molto importante della nostra cultura della nostra economia senza turismo cioè Venezia senza turismo Firenze eccetera sarà lunga ripartire ma io ripeto difficile non vuol dire impossibile serve certamente il coraggio di pensare ma serve anche che lo Stato si dia veramente una svegliata un bel pizzicotto sulla pancia sulle guance e aiuti comunque dei comparti che sono fondamentali fondamentali perché io ho sentito albergatori che hanno paura ad aprire perché i costi sono fissi ma le prenotazioni non ci sono e allora noi dobbiamo invitare gli italiani che se lo possono permettere a non avere paura a viaggiare ad aiutare a far girare l'economia poi nella speranza che anche il turismo possa ripartire poco per volta poi nella speranza che questo virus venga svanisca in qualche modo non dico solo il vaccino ma con l'estate dicono che col caldo potrebbe potrebbe andare via chi lo sa no lo so questo non francamente io non sono una virologa in questo mese l'alletto di ogni quindi io non sono come dire non sono un esperto in materia sanitaria quindi comunque me ne guardo bene dal pronunciarmi penso che con un po' di buonsenso se tu vedi che anche in India dove le temperature non sono certo basse sono scattati nuovi contagi io non credo che dipenda dalla temperatura è vero è una cosa che ho sentito dire riguardo all'estate migliora cioè il virus muore con le temperature dobbiamo imparare dobbiamo imparare a conviverci a rispettare le regole e a cercare di seguire quelle che sono le misure no di sicurezza di distanzione speriamo che riparta anche il turismo che l'Italia ha da dare sempre tanti vogliono venire in Italia quindi godiamoci bene l'Italia quest'estate io spero di fare un salto magari in Calabria non so se avrai in modo di andarci o di tornare in Sicilia Catania insomma non ci ho pensato ancora perché riesco a stento a programmarmi la giornata però insomma poi vediamo noi intanto ci rivediamo presto ti devo dare Wonder Juicy dobbiamo fare il nostro dobbiamo fare il nostro viaggio a Roma dobbiamo tentare una salsa dobbiamo pensare all'embike la salsa la tentiamo appena ci vediamo proviamo proprio al momento dobbiamo pensare all'embike adesso io mi sono memorizzata l'embike targata El Rey ce la faccio ce la faccio perché possiamo pensare di fare una roba edizione limitata edizione limitata per Disabili No Limits certo ci sto ci sto ci sto è una cosa che posso sposare vediamo vediamoci così ne parliamo la progettiamo insieme quante idee so anche chi coinvolgere in merito quindi molto volentieri ecco volentierissimo poi non so tu l'embike la proveresti ti piacerebbe? ma io devi sapere che avvigevano dove ogni anno c'è la mezza la mezza maratona no io adesso non mi sto allenando più perché francamente non posso fare tutto hai già fatto abbastanza però 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 con la mia onlus io promuovo continuo a promuovere lo sport come terapia a mezzo di inclusione sociale e quindi comunque promuovo anche l'embike insieme agli amici dell'embike e avvigevano dove c'è ogni anno questa scarpa d'oro la mezza maratona in quell'occasione organizzo la scarpa d'oro ability di 5 km e io la faccio in embike vediamo di metterti sotto una embike delle mie abbiamo un problema la devo progettare ma ci sto abbiamo un problema io mi cappotto alla prima curva non sono come Zanardi io con l'embike vediamo anche mi sta mi sta per staccare c'è partito un countdown di 20 secondi non lo so ok è volato il tempo con te un abbraccione ci vediamo presto ciao a tutti ragazzi ci rivediamo grazie a tutti e sentiamo alle 21 alle 21 sul canale di Patrick esatto lì ho l'altro mio amico c'è Denver ascolta Giuse ti voglio tanto bene ci sentiamo presto allora ok e